Questa è la quinta edizione che si terrà il 2, 3, 4 settembre a Parco dell'Irno a Salerno. Dopo cinque anni siamo riusciti a creare un evento famoso in tutto il meridione e anche oltre. Le varie attività, sia a scopo comettistico, del videogioco, del fumetto come i workshop, o l'intrattenimento, i concerti grossi in uno, quest'anno di cui tre, stranieri anche, hanno portato Fantex per diventare uno degli effetti importanti. Noi siamo felici del coinvolgimento dei ragazzi che hanno avuto modo di avere una giornata un po' diversa e speriamo di crescere sempre di più. Quest'anno, come novità, avremo anche un'area Marvel, che sarà anche la nostra punta di diamante che possiamo anche dire ci leggere sulla torta di quest'anno. Tanti ospiti, oltre 30 ospiti, oltre 60 gazebi con varie attività, un'area per i ragazzi migliorata, anche per i bambini. Spettacoli e conferenze, sia informativo e professionale. E anche la gara cosplay, che è lo spettacolo fino a domenica, dove si chiederà anche quel concerto di Giamboi, che prevederà il vincitore, come nostro delegato a Nagoya in Giappone, al VCS. In Italia c'è un bisogno di organizzarsi così come si è organizzati, per creare momenti come questi, che era una manifestazione, ma in particolar modo che l'amministrazione comunale mette a disposizione per la rivedizione. Ma c'è qualcosa in più, insomma, che abbiamo fatto quest'anno. Noi abbiamo dato la possibilità all'associazione, dove riconosciamo sicuramente la grande passione, il movimento dei giovani, in particolar modo in presidenza. Abbiamo visto da tempo l'amministrazione comunale e abbiamo regolato uno spazio alciare in zona dei nuovi servizi che dobbiamo programmare nella città di Salerno, attraverso la regione Campania. E noi crediamo che questa vostra associazione può rientrare per far crescere e potenziare ancora di più quelli che sono i servizi...